mi serve il padre si il padre te ne fanno i padri no venite dai un attimo manco te non ci si crede quando ti serve il padre non ci sta mai tu tu via fammi guarda mi guarda la moda allora come sto? Buono, stai buono Eh, i scalpi sono chi di Pierino, lo battessono E chi ti teniamo? E chi teniamo? Eh? Chi tu teniamo? E se il tuo papillonno con me ti piace? Capiamo finire, tanto non ci vedono Tanto non ci vedono, che ne sai che non ci vedono? Dai dai, mi spogli al freddo eh! Stavo vicino a Piova Dai, più stretti che non c'è stata la inquadratura Forza! Manca Alessandro E tanto manca sempre qualcuno nelle foto Più vicini! E stiamo vicini! Non siete vicini abbastanza Siete pronti? Ma, i morti comparano nelle foto È tutto il giorno che ci provo a fare un bel ritratto di famiglia, ma non mi ritorno. C'è sempre qualcuno che mi scappa da quei droni. Dovete stare più stretti e non mi centrate nel quale lavoro. Più vicino. Siete vicini, ma non vicini abbastanti. Che bella fotografia. Che bel quadretto di famiglia, vedi? Bravi, bravi. Fatele saluti. Non è meravigliosa sta famiglia? Guardate, arrivatevi l'occhio. Quanto è bella sta figlia. E quanto è bella la sposa. Che matrimonio delusso. Undici milioni di matrimonio. Do cazzo l'ha preso i padri undici milioni che li guadagniamo anche con scena americana. Ti è becca. Trecento imbitati parenti. Sì, cugini, figli di cugini. Tutti i parenti e adesso muovete con l'altro. Puri morti, abitati. Siamo troppo vicini. Ma non vicini abbastanza. Com'è possibile tenere insieme tante vite? Tutto si frammenta. Si confonde. È tutto così difficile. Guarda che io so un cattivo come te. Siamo tutti uguali. Quasti, ammalati, tutti dello stesso seme marcio. Alziate il primo schiaffitozzi. Come ogni ragazzino si muove sovono. Ciao a tutti, sono Marcello Fonte e sono con la mia compagnia Fortapache curata da Valentino Esposito che si occupa di rinserimento nel sociale attraverso il teatro il rinserimento nel sociale di ex detenuti e non ci troviamo in uno spazio di artisti 7607 totalmente gratuito, non si paga niente grazie a artisti 7607 e noi proviamo, se no è fatto tardi e quindi anche che gratis sì però comunque magari lo spazio serve anche agli altri Pagliano, fate il tuo balletto, ragazzi, fate vedere che hai imparato al seminario dai e ci faccia dire che sta testa è molto oro Pagliano! Dio Dio Grazie a tutti.